E' già Natale a Castelponzone, uno dei borghi più belli d'Italia e frazione del comune di Scandolare a Ravara. Le Castelline del Borgo, così si chiama il gruppo che si è preso a cuore, rilancio culturale del Borgo stesso, hanno organizzato i mercatini di Natale, richiamando parecchia gente dal Casalasco e non solo. Un evento che da queste parti hanno sposato da diverso tempo e il matrimonio va avanti, senza dimenticare altri eventi in procinto di essere organizzati e calendarizzati. Ci troviamo alla sera e prepariamo tutti gli addobbili e tutte le varie cose che ci sono in giro per il paese. Siamo contentissimi della giornata perché vediamo un grande afflusso di persone. I prossimi eventi faremo una camminata a marzo a scopo benefico. Poi a luglio, no prima a maggio ci sarà, la prima domenica di maggio, un mercatino che si chiama Borgo in Fiore, è per i regalini della festa della mamma, queste cose. A luglio una giornata, una serata a tema musica, mangiare così che ricorda la fiera che c'era in questo paese. E poi a ottobre ancora, sempre in occasione di San Luca, faremo di solito mercatini a scopo sempre benefico con prodotti alimentari. E poi a dicembre ancora ai mercatini di Natale. È festa per tutti, sotto l'albero, sotto i portici, o tra gli strettini, le caratteristiche vie di Castelponzone, con la musica e l'intrattenimento a tutto tondo della band Casalasca e degli Alte Rego. Il grazie anche dal sindaco di Scandolare a Lavara, Roberto Oliva. C'è pieno, pieno, pieno di gente. E questo ci fa piacere perché il borgo di Castelponzone, a cui stiamo tra per altri investendo, ha fatto sì che grazie anche al grande lavoro delle castelline che in una loro totale autonomia mantengono vivo questa tradizione e anche altre che stanno portando avanti.